Buongiorno, sono Urbano nella Sanio Moreno Volkswagen Audi di Fuscecchio. Oggi vi presento la nuova arrivata nel nostro parco, vetture usate, si tratta di questa bella Audi A3 dell'anno 2017 specificatamente del mese di gennaio ed è un 1.16 in entrata, turbodiesel, 110 cavalli, cambio manuale e è appartenuta ad un solo proprietario, cliente abituale presso il nostro service Audi e quindi taglianti certificati Audi, chilometraggio certificato, quindi una bellissima vettura da vedere. Andiamo adesso a controllare lo stato d'uso generale della nostra auto. Andiamo adesso a vedere lo stato d'uso della carrozzeria esterna di questo bel colore grigio scuro pastello. Come vedete non ci sono graffi, non ci sono ammaccature, infatti risulta anche come verniciatura esterna veramente bella e brillante. Andiamo adesso a vedere gli accessori della nostra auto partendo dalla zona anteriore. Mascherina rifinita con le cromature, luci diurne a led, sensori di parcheggio posteriori, cerchi in lega da 17 pollici, abbinati alle sue gomme invernali, sempre con un ottimo battistrada. Rifiniture cromature cromature, giro vetri, interruttori dei quattro vetri elettrici, interruttore della regolazione degli specchietti elettrici, con in più la posizione per essere, con in più la posizione anche per richiudere elettricamente e riaprire elettricamente gli specchietti. E andiamo a vedere anche l'interno proprio della nostra vettura partendo dal cruscotto anteriore. Bello da vedere, non ci sono usure, non ci sono graffi, bello ripeto e pulito. Partiamo dalla console centrale con i vari interruttori per le varie funzioni. Funzione del menu, dove ho tutto quello che mi serve sulla vettura, quindi io posso andare a cercare le cose che mi servono, tipo il vivavoce, che tramite il bluetooth ci collego anche il cellulare, il navigatore e posso ricercare tutte le mie zone dove voglio andare. Mentre sotto abbiamo, per esempio, il climatizzatore automatico B-Zona, interruttore per modificare il nostro stile di guida, infatti viene modificato sia il tiro motore tramite la centralina e sia la scatola di guida, quindi mi personalizzo lo stile di guida. Interruttore anche per abbassare o naturalmente alzare il display centrale. Cambio manuale a sei marce. Volante multifunzione, con in più anche l'interruttore del comando vocale. Cruise control. E andiamo adesso anche a vedere il chilometraggio, solamente 89.500 chilometri. E come vi ho anticipato precedentemente, tutti tagliandati presso il nostro service Audi. Infatti, l'ultimo tagliando è stato fatto ad aprile 2021. Andiamo adesso a vedere anche la nostra tappezzeria interna. Di questo bel tessuto grigio scuro, bello, non ci sono strappi, non ci sono usure, non ci sono buchi di sigarette, perché il precedente proprietario non fumava. Come il nostro solito, è stata lavata, igienizzata a vapore, con questa lavorazione specifica. Infatti, il risultato di questa lavorazione è proprio l'avere un interno vettura veramente bello, pulito, profumato, quindi molto, molto accogliente. Passiamo anche al vano bauliera. Bello, ampio, pulito, cosa vuol dire? Che ha avuto lo stesso trattamento di lavaggio a vapore della tappezzeria anteriore. Quindi risulta veramente, anche questo, molto bello. Sotto il pianalino abbiamo anche il ruotino di scorta con tutta la sua attrezzatura. Andiamo adesso a vedere anche il nostro vano motore. Bello, accogliente, con tutti i suoi componenti al loro posto. La vettura, prima di essere messa in vendita, comunque, viene controllata presso il nostro service Audi come seguendo una checklist multicontrollo interna e sono praticamente 110 punti da verificare singolarmente affinché la vettura sia completamente funzionante e quindi affidabile. Dopodiché ci viene abbinato 12 mesi di garanzia come prescrive la legge con possibilità per il cliente di fare un'estensione fino a 24 mesi. Possibilità di pagamenti rateali personalizzati con più soluzioni che vi saranno spiegate in sede nel caso ce ne fosse bisogno. Adesso salite in macchina insieme a me e andiamo anche a fare un giro di prova su strada. Nel salire sulla nostra auto la prima cosa che notiamo è proprio l'accoglienza, la bellezza dell'abitacolo. Veramente eccellente, bello, tutto pulito come vi ho già fatto vedere. A cosa serve il giro di prova? Serve a capire il funzionamento generale della nostra auto in tutti i suoi componenti. Da questi primi metri, allora partiamo dal pedale della frizione. morbido, preciso, stacco veramente, ripeto, preciso. E anche il cambio, facile negli innesti, non ci sono giochi. Quindi linearità di marcia veramente ottima. Assetto stradale, anche questo buono perché la vettura va veramente dritta su strada e non ci sono assolutamente vibrazioni. Mentre la scatola di guida, che in questi incroci la dobbiamo girare parecchio e quindi sollecitare, la sento leggera, precisa e senza nessun tipo di gioco. Quindi, guida abilità generale, ottima. Andiamo a sentire anche il lavoro delle nostre sospensioni nella classica strada con le buche per capire l'insonorizzazione della vettura. Ebbene, sentiamo sì il loro lavoro, ma all'interno abitacolo della vettura è veramente silenzioso. Tutti i componenti sono già stati controllati e quindi è completamente funzionante la vettura. Quindi pronta per essere guidata e naturalmente acquistata. Se abitate lontano dal nostro punto vendita, per spiegarvi in anteprima la vettura, possiamo prendere un appuntamento telefonico e con una videochiamata tramite Whatsapp, ripeto, presentarvi i pregi ed eventuali difetti. E quando deciderete di venire a vederla, naturalmente vi sarà comunque rispiegata e naturalmente importante la prova su strada. E andiamo adesso a provare anche la nostra meccanica. Risulta silenziosa, brillante. Con i suoi 110 cavalli, cambio manuale a 6 marce, troviamo sempre il rapporto giusto. Anche la visibilità esterna è molto bella. Vetro ampio, nonostante sia una berlinetta, quindi dall'assetto ribassato, ma alla strada si vede veramente bene. Dopo queste notizie torniamo al nostro punto di partenza per le ultime informazioni. A questo punto vi invitiamo a visitare il nostro sito diretto autosani.it dove troverete tutte le informazioni più dettagliate sulla nostra auto. Troverete naturalmente anche il prezzo. Seguiteci poi su social, facebook, instagram, al nostro indirizzo Sani Fucetti. Un grazie per l'attenzione. Vi aspettiamo presso il nostro punto vendita di Fucetti oppure telefonate ai nostri numeri. Vi sarà comunque risposto a tutte le vostre domande. La vettura che abbiamo appena visto è già pronta. Pronta consegna, già controllata, quindi pronta per essere acquistata. Vi aspettiamo. Dopo queste informazioni, come diciamo sempre, alla prossima vettura!